Onorevole, oggi si parla di disabilità, fragilità e ruolo anche della previdenza sociale, in questo prima c'era il presidente dell'Inail a proposito di questo. Allora le domande, cosa può fare la previdenza sociale a parte erogare i dovuti compensi? Beh, intanto dagli studi che abbiamo, che si vince, si vince che a essere precoci nelle diagnosi è sicuramente determinante in modo da poter dare risposte e non solo equilibrare i costi ma anche essere efficienti su quello che è la malattia. Oggi, se sincero, sono rimasto molto emozionato, anzi in alcuni casi ho pensato pure che se il fragile sono io perché vedere certe persone che hanno certe disabilità segnano e ti fanno capire quanto la vita è importante e quindi quanto la vita è determinante e la forza di queste persone che ci hanno dato. Dopodiché, come legislatore, possiamo dare di più per far sì che in qualche modo vengono messe in luce queste analisi precoci. Faccio un esempio sul lavoro, non solo della previdenza, ma credo che sia elemento fondamentale di tutte le politiche di welfare, di welfare aziendale, quindi incentivare quello che è il welfare aziendale sul sanitario in modo che dare supporto a quello che è il sanitario pubblico e quindi avere una efficienza per ridurre al minimo questi disagi. Una battuta sulla manovra, lei ha fatto una conferenza stampa in cui insomma ha elencato tutte le cose che non vanno, ma sul sociale e sanità cos'è che non vi convince? Diciamolo, sul sociale e sanità intanto c'è poco, tranne che dare dei vantaggi forse al partito comunista con qualche centinaio di mila di euro, non ho visto una visione sul terzo settore, assolutamente rimane tutto come prima, anzi sull'IRES vorrei vedere anche se ci sono effetti secondo me su quello che era il terzo settore. Detto questo siamo davvero secondo me in una fase negativa per l'economia italiana e le ricadute di tutte queste tasse che in qualche modo vengono intromesse, che poi ci giocano, che dicono che l'abbiamo tolte, l'abbiamo messa, l'abbiamo spostata, portano sicuramente un aumento in tasca di italiani, questo sicuramente, quindi dobbiamo trovare soluzioni diverse. Abolizione del super ticket però dal primo settembre, questo potrebbe portare i problemi diciamo... Il 2020, il prossimo anno, vabbè però è un problema che vorrei avere molto volentieri, anzi sapremo come farne sicuramente un nostro consenso su questo.